Un nuovo episodio di violenza e maltrattamenti in famiglia si è consumato ieri nel quartiere San Cristoforo a Catania. Nel pomeriggio un uomo di 28 anni avrebbe aggredito la compagna in dolce attesa, sia verbalmente sia fisicamente, schiaffeggiandola, strattonandola per le braccia e trascinata in camera da letto le si sarebbe avventato addosso premendole l'addome. Il violento, quanto immotivato comportamento dell'uomo, è scaturito a seguito dell'intervento della donna a difesa del proprio figlio. Nel corso di un dialogo con un vicino, invastidito dalle monellerie del bambino, il 28enne infatti lo avrebbe aspremente rimproverato. La madre sarebbe quindi intervenuta in difesa del figlio, adirando così il compagno. Providenziali l'intervento del vicino di casa, che avrebbe afferrato l'aggressore per la schiena, allontanandolo così dalla donna ed evitando ulteriori e ben più gravi conseguenze per la malcapitata, e il successivo intervento a seguito di una richiesta di intervento ricevuta tramite il numero unico dell'emergenza dei carabinieri del nucleo radomobile del comando provinciale di Catania. Giunti nel luogo dell'accaduto, i militari hanno trovato davanti l'uscio di casa il 28enne, che li ha subito tranquillizzati, riferendo che il loro intervento era superfluo, perché si trattava di un semplice diverbio con la compagna. Entrati comunque nell'abitazione per effettuare le necessarie verifiche, i carabinieri hanno però trovato la donna ancora scossa e in stato di gravidanza, che teneva stretta a sé il bambino. Proprio la donna ha raccontato poi quanto accaduto ai militari, che hanno proceduto con l'arresto del 28enne per maltrattamenti in famiglia. Inizialmente sottoposto ai domiciliari presso l'abitazione di un familiare, l'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato liberato con la contestuale applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico e di vieto di avvicinamento.